Partiamo dal principio che la grande sfida di questo secolo è di costruire una formalizzazione in sostanza matematica per le scienze dei sistemi viventi. La folla è un tipico sistema vivente in quanto la dinamica, la meccanica è regolata e dipende in modo significativo dagli stati emotivi della folla quando è coinvolta in situazioni anche di rischio e di crisi. Perché è importante oltre a questo aspetto scientifico che comunque è stimolante e perché è legata a questioni di sicurezza delle folle in eventi che possono essere drammatici. Esempio un attacco di tipo terroristico come quello di Parigi o Bruxelles oppure problemi di evacuazione forzata come il caso dell'evacuazione della nave Concordia. La comunità scientifica internazionale sta studiando questi problemi proprio con l'obiettivo di creare skills, esperienze, risultati che portino beneficio alla società. L'obiettivo finale che passa attraverso i modelli matematici è la costruzione di piattaforme di supporto alla decisione dei gestori della crisi, crisis managers. Questi devono prendere in pochissimo tempo delle decisioni strategiche per rendere meno rischioso l'evento. Il modello matematico che descrive la dinamica delle folle è un supporto fondamentale alla costruzione di queste piattaforme di intelligenza. artificiale. Concluderei segnalando due punti, uno di carattere più accademico e uno più di carattere socio-economico. Accademico, questi problemi generano delle frontiere di ricerca di elevatissima competizione e i risultati sono generalmente pubblicati su riviste di grande prestigio. Da un punto di vista socio-economico, chi lavora su questi temi acquisisce quelli che l'Ocse ha definito skills, cioè la capacità di affrontare dei problemi. Questi skills hanno un impatto sul mercato, sono un valore aggiunto. Purtroppo, devo aggiungere, che il sistema Italia non è pronto a valorizzare queste competenze al punto che questi detentori di skills tendono a lasciare il Paese perché la valorizzazione a livello europeo è molto più elevata di quello che avviene in Italia.